E le signorine? Grazie per essere rimasto di guardia E la stessa persona con cui parlava A Junon La materia E' trasparente Come la Eris nella timeline di Zack Mi d'galo in cui parlava Mi d'galo in cui parlava Mi d'galo in cui parlava Dio però non è sempre stata bianca quella materia E io l'ho detto Lei muore e si sveglia la Eris nella timeline di Zack Che diventa appunto la vera Eris Lei praticamente È come se fosse la coscienza Lei è la coscienza della vera Eris Ma si è fatta la doccia nella stanza di Cloud Mi d'galo in cui parlava Mi d'galo in cui parlava Mi chiedeva Mi chiedeva Mi chiedeva Mi chiedeva Oh no Devo farlo anche con l'oro Durante gli eventi di Costa dell'Amore Con L2 puoi decidere di partecipare con Eris o Tifa Senza che questo influisca sulla storia Oh no Devo farlo anche con l'oro Ma devo fare Devo fare gli stessi mini giochi Oh merda Anche con l'oro Vabbè sono semplice almeno dai Numero 77 Ah corsa matta e rendezvous Ci sono giochi diversi Scova e chiatus e concerto regale Per il pianoforte Certo perché loro hanno più pezzi del vestito Costa Loro hanno più pezzi dei vestiti a differenza di Cloud Quindi giustamente devono fare più giochi Ah posso usare Tifa Ecco andiamo così A posto Corsa matta per gli animali Quindi oddio Ah anche Red deve prendere l'equipaggiamento per il mare Questo è il gioco Quello del calcio Quello che si vedeva del calcio Eh esatto Liberi il tuo istinto con quattro squadre di animali che si sfidano in una corsa pazzesca Con la palla fino alla porta avversaria Allora le due salto scatto tiro diretto per lanciare la palla in alto Tiro realizzato per lanciare la palla in alto Ok Principi Primo posto Ah ok devo arrivare praticamente al primo posto LOL C'è un Chocobo Due Oddio Eh ma non vale Quelli giocano in due Gol Ah vado che infame Ah come no si Eh lo scavalca No No Ho sbagliato Vabbè ho vinto Ma bellissimo sto gioco Ok E abbiamo preso tutti i premi Ah è arrivato Ecco vedi sono arrivati ora loro Rufus Heidegger Andiamo prima da Johnny Ah no porca Non ci possiamo andare Oh no Oh no Tifa ha la sindrome di Cloud Johnny Non è proprio un po' Non è proprio un po' È un po' diverso Molto Molto Mildgar Kira kira Statici Non so Sosso Stato Ah Ah La mollata Succede sempre così Succede sempre così Succede sempre così Non so Non so Succede sempre così Come no Succede sempre Succede sempre Non so Succede sempre Succede sempre Ah, ma che colpa tua Se sei figa Sali sulle bighe E lasciate in giro Per costo di portare il pacchetto adatto in base al colore Oh, cazzo Quindi devo cercarle Oh, cazzo Ah, ok Ok, ecco O uno lo sappiamo dove è il Chactus Fotocamera Ah, vedi, li posso fare anche contemporaneamente Trovi i Chactus disegnati nascosti a costo del sole E fotografili Usando l'ingrandimento adatto Sulla mappa tra gli appunti Quando vogliamo andare con te Vuoi affermare il personale Ecco, questo è uno Ok, recuperato bighe blue Qua ce n'era una rossa E mi interessa oggi Non stacco fin quando non vedo Tiffin Costù Nulla ci separerà da Tiffin Costù Ecco, vedi, là ce n'è uno di Chactus Vabbè Spiegato un po' così Però ok Ci siamo Ora ho capito Cioè, devo prenderlo Vedete, tipo al 70% Ecco, deve essere Cioè, la percentuale si riferisce al fatto di quanto il Chactus occupi Praticamente la foto Allora, qui ce n'è un altro Che ce l'hanno fatto vedere Praticamente nel Nel tutorial È di 40% Quindi Così E siamo a 2 Io ora ce n'era un altro Che era praticamente di fronte Ah no, di fronte però a quello da 70% Quindi Se quello da 70% È lì Quello da 70% È lì Quindi Dobbiamo andare Eccolo È quello là Eh ma c'è di vuoro Eh ma mettermi addirittura più lontano Ok Il bello che dicevano li trovo io i Chactus E li sto trovando tutti io Ok Ok e l'altro invece è praticamente qua sotto in questa zona Ah guarda dov'è Ma vaffanculo Lo sapevo che si trovava in una roba del genere No vabbè questo è veramente illegale Ok Abbiamo fatto tutti i Chactus Nel frattempo vediamo ora anche l'evento secondario di Johnny Sì Vediamo che vuole Johnny Sì 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 Grazie a tutti. Ok, ci sono altri overboard da depositare? Ecco, vedi? Qua ce n'è un altro. Allora, il deposito di quelli gialli dov'era qua, vero? No, queste rosse. Ah, concerto regale. Eh, questo qual è? Quello gialle, ok. Quindi andiamo. Ah, tra l'altro quelle gialle ce ne sono di più. Ecco. Ok. Ho recuperato un'altra gialla. Eppure sono diverse e sparse, perché ce n'è un'altra gialla, un altro rosso. Ecco, qua ce n'è quell'altro giallo. Quella che mi spia. Inquietantissima. Ecco perché mi ha lasciato il mio Johnny. Uh, eccola. Qui c'è quella rossa. E lì c'è l'altro blu. Allora, aspetta, fai una cosa, fermi. La blu è qua vicina, quindi tanto vale. Ma come fa ad essere già qua? Come fa ad essere già qui? È inquietante, sta tizia. Ok, ora andiamo a depositare l'ultimo rosso. Ok, ora andiamo a depositare l'ultimo rosso. due carte dell'amore addirittura. Oh no. Oh no. C'è stato un po' di me? C'è stato un po' di me, ma io e Johnny sono solo un amore. C'è davvero? C'è Johnny con la sua parola? C'è quello che c'è. C'è quello che c'è. C'è quello che c'è, Johnny è un po' di me. C'è quello che c'è quello che c'è, penso che c'è quello che c'è. C'è quello che c'è Johnny? Ok. Ora manca praticamente Cos'è che manca? Ah riferire qui E poi il concertino E dopodiché Avremo la nostra versione Estiva Sì 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 Almeno per ora che prendere i premi Sì 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 Incredibile Ok Ok ci siamo Possiamo scambiare I ticket Allora Allora Tifa So già benissimo So già benissimo quali indossero So già benissimo quali indossero Olè Oh le Godi Godi Sì Sì Direi che ne è valsa assolutamente da bene Sì 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 Un po' troppo Un po' troppo Un po' troppo da già Ok Post Va bene Io direi che però ci fermiamo qua Così la prossima volta poi continuiamo E che però io ho paura che ora si sbloccano tutte le cose secondarie Perché dopo la parte di Costa del Sol penso che ci sia tutta la parte esplorativa E mi farebbe piacere invece sbloccare la parte esplorativa In modo tale che me la posso fare per conto mio Sì sì Andiamo un po' più avanti dai Sì Sì Tifa Cloud e Tifa hanno gli stessi gusti Cloud ed Eris hanno gli stessi gusti Oddio Ah perché li ho messi mezzi nudi praticamente Una donna Tifa incredibile Scoppia di salute Eh mi dispiace Sì Tutto Sì Sì Tutto Sì Tutto Tutto Sì Sì Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco la scena di lui Che lui col camice Grazie a tutti Grazie a tutti Oh oh Ah li cattura Grazie a tutti Ora uso l'ombrellone Zacc più intensifies Intanto se mettete così con Tifa Avete un primo piano incredibile Per coloro che ovviamente vogliono intendere e volere Grazie a tutti Molto easy Eh ma non c'è nessuno in cura Oh no Grazie per la visione! Grazie per la visione! Eh ma ridammi i miei compagni ora? Grazie per la visione! 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 E si potesse usare da... non dico da subito, però. È anche vero che durante, ovviamente, la storia originale tu la recluti lì, vicino Junon. Quindi, considerando che siamo ancora dentro Costa del Sol, è praticamente... cioè, praticamente da questo momento in poi, in teoria, Yuffie dovrebbe entrare a far parte ufficialmente del team. Ma, c'è un po' di risveglia, ma... Sì, non c'è un po' di risveglia, ma... Non c'è un po' di risveglia senza mare. Ecco, è la nostra esperienza con Tifa in bichini. È già finita. Però... Ne è valsa la pena. Madonna mia! Zoni! Sei ok? Hehehe... È così bene. È stato giusto per me. È stato giusto per me. È vero... È vero che... È vero che... Sono i ragazzi che hanno insegnato le persone che hanno insegnato. È vero che i hoteli e i capo. È vero che... È vero che... È vero che non mi sembrava. È vero che... È vero che... È vero che... Ecco vedi Sette stelle Perché in teoria io sapevo che Johnny era una sorta di evento secondario dove Potevi contribuire alla crescita Del suo hotel ma Non so se effettivamente sta cosa poi L'hanno confermata Beh ti fa outfit su Ever Crisis così Eh Eh Magari quest'estate Ecco Cioè dovrei sbloccare tutta la zona esplorativa In teoria E ora sono sicuro che poi mi appiopperanno Ecco Ecco quindi ora Yuffie si unisce alla squadra Questa è la stessa presentazione che abbiamo avuto su Ever Crisis Quando c'è stato l'evento Con Yuffie come boss E se metto No grazie Non è che è come Come nel gioco originale che devo fare E Tipo Not Interested Tutte le varie cose O forse questo mi serve per il grado di Diciamo di amicizia Vediamo Vedi Si è unita allo stesso E mica tanto Però secondo me non ci sarebbe stato il combattimento comunque Perché tipo lei avrebbe inventato tipo qualcosa come per dire Ecco vedi Oddio posso veramente rifiutarla? No dai secondo me non Secondo me non mi fanno una carognata del genere Non ci credo che non me la fanno accettare Non ci credo che non me la fanno accettare Minchia per il meme io premerei no Io sono sicuro che lei si unisca comunque Vai per il meme Fino alla fine Vediamo Vediamo Ecco vedi Eh Io lo immaginavo dai E ora c'è la simpatia di Yuffie E ora c'è la simpatia di Yuffie Sé che vuoi Ecco E ora si è unita Yuffie ufficialmente Ci sono capi di abbigliamento che si possono indossare solo a capo del sol Quando sei in città cerca i camerini per cambiarti e goderti il mare Il costo del sole e giuno bassa sono raggiungibili tramite spostamento rapido in traghetto Per salire chiede lo staff nel porto Quando sei in città puoi rivolgertelo staff del giorni miramare Ecco, vedi, ci sono nuovi incarichi a Corel Ma... scusa Ma gli incarichi a Corel in che senso? Qua siamo ancora a costa del sole Nolleggio di Chocobo Ecco perché ora noi tecnicamente dovremmo uscire E finalmente potremmo avere la zona esplorabile Così io poi posso staccare E tutte le cose secondarie le posso fare Magari se ci arrivo domani Anche se la live è durata più del previsto Quindi domani dovrò montare Come un bastardo Quindi Ah, qui c'è il fotografo Porca miseria C'è anche la roba del fotografo qua Ecco, vedi, ci sono tutte già le torri Che si deve... Madonna mia Ma enorme tutta sta zona Ah, certo, perché è la regione di Corel È giusto, vero? Costa del sole fa parte della regione di Corel Eh, vedi, questo è il monte Corel Madonna mia quanta roba Casino Allora Intanto facciamo così Perché qui c'è il fotografo Così intanto le prendo Queste cose Però ok, vedi Finalmente posso uscire dalla città Quindi posso fare tecnicamente tutto Anzi, ma in realtà posso anche staccare già Perché C'è il simulatore Che devo fare E poi tutte le robe E poi tutte le robe Praticamente della Della mappa Non credo di riuscire a farle domani In tempo Eh, no Non credo di riuscire a farle tutte da solo in tempo Ah, vabbè Che tra l'altro le registrerò a parte Perché anche se faccio cose off camera In realtà poi le includerò Nelle live integrali O comunque cercherò di integrarle Magari con cose a parte E le registrerò comunque Tutte queste parti Perché Ovviamente fa parte del gameplay Quindi le includerò a parte Nelle sezioni integrale Va bene Signori Io direi che allora per questa sera Ci possiamo anche salutare È stata È stata una Bella scorpacciata di live È durata anche troppo Pensavo di sbrigarmi più in fretta Ma Purtroppo non è stato così E E niente Ci vediamo al solito domani E Buon inizio settimana a tutti E Buonanotte Adios Buon inizio settimana a tutti